Un punto e mille rimpianti. La regina torna da Agrigento con un pareggio che sa tanto di occasione persa. Alesseneto finisce 2-2 ma il risultato soddisfa soprattutto l'Agracas in 10 per oltre 40 minuti. Gara ricca di emozioni, quella che va in scena in Sicilia dove la regina si presenta col morale alle stelle dopo la vittoria ottenuta nel derby col Messina e come sette giorni fa la squadra di Zeman prova subito a fare la partita dettando i ritmi del gioco. Le occasioni migliori tuttavia sono dei padroni di casa che in contropiede spiorano subito il gol con l'ex Salandria e il preludio ha il vantaggio agrigentino che si materializza al minuto 15 quando Marino sugli sviluppi di un calcio d'angolo beffa così una disattenta difesa Maranto. Lo schiaffo subito all'effetto di uno shock per la regina che tuttavia ha il merito di riacciuffare subito il pareggio grazie ad un calcio di rigore concesso per questo fallo subito da Coralli dal dischetto e lo stesso Coralli a ristabilire la parità. Neppure il tempo di esultare e la regina stacca nuovamente la spina e in chiusura della prima frazione la difesa Maranto regala a Marino la soddisfazione della doppietta personale per il difensore agrigentino è un gioco da ragazzi beffare così l'incolpevole Sala 2 a 1 e tutti negli spogliatoi a riflettere. Ferita nell'orgoglio la regina nella ripresa parte subito forte e dopo un tentativo di De Francesco come sempre tra i migliori e Oggiano a spostare gli equilibri costringendo Marino al fallo da ultimo uomo Rossi inevitabile e Agra Cassin 10 inizia la sedia Maranto anche se di vere occasioni non è che la regina riesca a crearne poi tante nonostante il dominio territoriale e allora tocca al solito De Francesco togliere le castagne dal fuoco a quattro minuti dalla fine con un tocco ravvicinato che non lascia scampo a pane e il gol del 2 a 2 ci sarebbe tutto il tempo per provare a vincere la gara ma la regina non ne ha più e alla fine è costretta ad accontentarsi di un pareggio che come detto sa tanto di occasione persa.